E' finita con la vittoria per 5-2 la prima uscita stagionale del Matese sul terreno di Capriati al Volturno contro un vivace sesto campano che ha messo in campo tutto il suo impegno per ben figurare. Al di là del risultato finale con due reti del bomber matesino Daniele Napoletano che fanno bene al cuore anche nel bugiardo calcio di agosto, c'è ancora molto da lavorare in campo nella campagna acquisti. squadra ancora da ridisegnare per il mister Urbano che abbiamo sentito a fine gara. Qualche indicazione positiva da questo primo test? Ma sì, poi vanno presi col beneficio con la consapevolezza soprattutto che oggi è la prima partita che facciamo, un gruppo totalmente nuovo, c'erano 9 undicesimi nel primo tempo che erano nuovi, quindi tra l'altro anche ragazzi che stiamo valutando, ma al di là di questo insomma voglio dire noi stiamo lavorando bene, stiamo lavorando all'acremente con i ragazzi sul campo, la società del direttore sta sondando il mercato da tutte le parti e quindi bisogna aspettare un pochettino perché sicuramente arriveranno altri giocatori. Poi è stata la volta del giovane centrocampista ex salernitana Russo che ha fatto bene in campo e che ha già legato con i compagni di squadra trovandosi a proprio agio. Allora Alessandro Russo, come ti trovi qua a piedi modi con questa nuova squadra? Mi trovo davvero bene, la società mi ha accolto molto bene, i compagni di squadra soprattutto. Tu hai debuttato in Serie A mi sembra, sì. Sì, sì. Il passaggio da una squadra di Serie A a una di quarta serie? Sicuramente è un passaggio che bisogna fare, soprattutto per l'età mia che ho, cioè da prendere calci diciamo, quindi è un passaggio importante. Si è parlato anche dei portieri e lo abbiamo fatto con le preparature, Silvano Romagnini, sentiamolo. Allora, 4-5 portieri oggi, però quello che dovrebbe fare il titolare non ha giocato, perché? Siamo ancora in fase di allestimento, di allestire la squadra, preferiamo guardare i giovani che ancora non conosciamo e per vedere come rispondono alla partita, ecco. Il pallonbo lo conosciamo, non servono presentazioni e niente. Abbiamo provato tutti i ragazzi che sono in prova, qualcosa è andato bene, qualcosa è andato meno e non ci resta che lavorare, ecco. Da Capriati al Volturro è tutto, Lorenzo Applauso ed Emilio Bianchi per casertasera.it